Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel e benvenuti ad una nuova puntata dedicata alla rubrica nutrizione e benessere in onda sul nostro canale ogni settimana e curata dal dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi continueremo a parlare di frutta tropicale, lo faremo raccontando della papaya denominata da Cristoforo Colombo il frutto degli angeli. Allora perché e poi anche le proprietà? Sì, allora credo che Cristoforo Colombo si riferisse essenzialmente al gusto che in effetti è molto molto dolce a metà tra un albicocca e un melone. La papaya è il frutto di una pianta appartenente alla famiglia delle caricace, è un frutto che può raggiungere dimensioni anche notevoli fino ad arrivare a pesare anche 10 kg. Quando matura si presenta con una buccia esterna di un colore verde giallo, una polpa all'interno di colore arancione dovuta essenzialmente al contenuto di licopene e con dei semi centrali di un colore nero, anch'essi commestibili seppur di un gusto molto più amaro rispetto alla polpa. 100 g apportano in circa una quarantina di calorie, sono ricchi di sali minerali, soprattutto magnesio, potassio, calcio, fosforo, lame e vitamina A, vitamina C e vitamina E. Contiene inoltre moltissime molecole antiossidanti, quindi anche flavonoidi, che aiutano a prevenire l'invecchiamento precoce e anche a prevenire tutta una serie di patologie. Contiene potassio che quindi ha un buon effetto diuretico e anche grazie alla ricchezza di acqua un ottimo effetto anche dissetante. Contiene un enzima proteolitico chiamato papaina che favorisce la digestione, quindi soprattutto al termine di pasti molto importanti la papaya ci può aiutare a digerire meglio. Contiene poche calorie, quindi può essere inserita anche all'interno di regimi dietetici. Contiene una buona concentrazione di fibre e quindi ci aiuta nel regolare il transito intestinale, quindi a contrastare la stipsi. Ci aiuta a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo e altre proprietà sono quelle antinfiammatorie, cosmetiche e antielmentiche. Siccome è un frutto tropicale, come facciamo a scegliere il prodotto, come riconosciamo la freschezza del prodotto? Sì, allora diciamo innanzitutto che è disponibile un po' durante tutto l'anno. Quando è maturo lo riconosciamo un po' dalla consistenza che deve essere non troppo dura e dal colore ovviamente della buccia, quindi non molto verde ma più tendente al giallognolo. Può essere consumato sia fresco, quindi così com'è, soprattutto per spuntini o per macedonia, insalate fresche soprattutto nel periodo estivo, anche cotta e viene utilizzato soprattutto nella preparazione di conserve di marmellate ma anche come frutto candito. Ci sono anche delle controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Sì, allora viene sconsigliato alle donne in gravidanza e in allattamento, chi ha delle allergie ovviamente a questo frutto ma anche un'allergia all'attice e poi viene sconsigliato per chi è in terapia con degli antiaggreganti e quindi anche con anticoagulanti. Grazie dottore di questi preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori, continuate a scriverci e a presentarci quali cibi vi interessano, quali alimenti, da poter poi discuterne con il dottor Ricci. Arrivederci alla prossima settimana, sempre su Cilento Channel con la rubrica Nutrizione e Benessere.